Ciao ragazzi per questo video di COD volevo fare qualcosa di diverso tra virgolette Quindi andiamo prima di tutto nel mercato nero come vedete ho 42 Cripto chiavi quindi possiamo aprire 4 casse normali comuni Quindi scambia 10 cripto chiavi Dai è così Apriamo vediamo che arma ci esce E se ci esce cavolo un'arma al posto che ste cavolo di mimetiche Poi andiamo a fare il gameplay un video con quell'arma Sempre se ci capita un'arma Scrivetemi se secondo voi capita un'arma o solo cavolo di mimetiche Ma nelle casse comuni non hanno messo armi potenti cose diverse Non hanno messo niente? Ma che cavolo? Oh manco un'arma? Ma siamo matti? Cioè non mi è mai capitato 4 casse solo Fantastico allora la mia idea è fallita miseramente Ed eccoci qui come nulla fosse mapparize Prima volta che ve la porto qua sul mio canale se non sbaglio Aspettiamo che magari possono arrivare da quella Come non detto Vabbè io ho i fumogeni E adesso noi andiamo qua sotto Contrastiamo chiunque Preso Vai 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 Sì ma ragazzi voi che cavolo fate? Dove cavolo sono i miei compagni di squadra? Cioè ero da solo lì nella hill Ma non era nessuno Va bene va bene va bene ragazzi Iniziamo già bene ma non preoccupiamoci Io ho anche il tomahawk Come arma quindi Vai fatevi sotto bastardi Avanti Quello a livello 1000 Sì certo io sono babbo natale A posto Dove cavolo escono però Io Oh la Avevo anche smesso cavolo di sparare Io ragazzi non so molto bene Questa mappa A dirvi appunto La verità Non Non la conosco benissimo Ho fatto boh due partite Bastardi Eh che cavolo Sì ma l'altro mi vuole dare manforte Va bene Ma no go lancia Vai UAV Piazzamolo qui l'UAV Che in teoria qua non dovrebbe arrivare nessuno Iniziamo molto cauti ragazzi Perché come vedete Il guardian Ma cambiamolo Torretta rinforzata Dai già meglio Come vedete siamo quasi 50 11 Ma se siamo in acqua Hanno la postazione Hanno la postazione No Questo è uno spettacolo Questo non lo sapevo raga Questa roba Posso andare qua sotto No Sì No Ok come non detto Ma dove Era laggiù Bomb Basta Prendercela Prendercela con calma E andiamo Al massacro puro Siamo pronti Torretta E chi si è visto Anzi la devo mettere all'indietro Anzi no E la lascio qua E io proteggo dietro Vediamo un po' Se non me la spezzano in due O che cosa Intanto Siamo in vantaggio Approvvigionamento Inarico Approvvigionamento nemico Ah no Grandissima E adesso Spostiamo la nostra Bella torretta Bastardo Ma dai L'avevo preso Ma com'è possibile Rombo di tuono Dai Scusate ma dove cavolo Sono i nemici Hola Lì Ho messo la mia bella Torretta Ok Perfetto Sto arrivando dall'altra Eccoli Bastardo Maledetto No Ho utilizzato L'exo Beh porca vacca Pensavo che fosse Andato giù in acqua Comunque Devastati 12-5 Un punteggio Orribile ragazzi Però dai Un gameplay così Qui c'era il mio alleato Ci sta Stavappa Non me l'avevo ancora mostrata No Ma gli esci? Violenza Ole Andiamo dall'altra Da che cavolo Di parte Arrivano La vuoi smettere? Non sei livello 1000 Te Ok Disturbo Ucciso Cosa volevi fare? L'ho massacrato Col pugno Adesso qua Mi fregheranno Gli apro Come non detto Come non detto Come non detto raga Che apro C'erano Perché sicuramente C'è qualcuno C'è qualcuno qua Hellstorm È mio Molto volentieri Ah no Tripla Alla faccia Che avevo sbagliato Adesso Aspettiamo un attimo Così 40 10 punti Cioè mancano 30 punti Eccolo Ok Altri 10 punti Dai raga 10 punti Grandissimi Un'altra bella Approvvigionamento Dai Voglio i raps Si Ho sentito Ok I miei compagni di squadra No Eccolo Hellstorm Rombo di tuono Si qua Non è che fa Moltissimo No Ho sbagliato Era dall'altra Ma dove Ma come Vabbè Non ho ucciso Nessuno Ragazzi Con Rombo di tuono Un altro Iper fail Anzi Forse mi Ucciso da solo Uh Doppietta Dai Così Avanti Dove Cavolo Arrivano I nemici Da dietro Poi Con la nuova Pistola Mi ha ucciso Ho lisciato Anche il Tomahawk Preso Anzi Potrei fare No Dai Come ho fatto A lisciare Quello col Tomahawk Potrei fare Una challenge Col Tomahawk Tipo Uccider Nebo 10 15 Basta Questa nuova Pistoletta Vi odio Maledetti Che spara Tipo Non so Graffette Anche quella 200 punti Ormai Potremmo Andare per Le kill Volendo Qua qualcuno Mi ha visto Entrare Sicuro Vuoi morire E so che sei qua Preso So che ce n'è un altro qua No Oh Ancora quello La smette Che cavolo Ragazzi Scrivetemi nei commenti Chi di voi Ha La nuova Pistoletta Chi di voi Ha la nuova Pistola Come si trova La spada Volevo una spada Trovare Una spada Così Indiretta E portarvi Un gameplay Ma È andata Molto male Malissimo E Niente La troverò Per conto mio Si ingasa La spada Oh Le ultime Uccisioni Sono solamente State Per questo Qui Con la pistoletta Ma è possibile Di nuovo Lui E così Con l'ultima Morte Che ho fatto 30-15 1-15 Gli altri Beh dai Tutti anche Sulla postazione È andata bene Ragazzi Quindi questo gameplay È finito Con la mia morte Anzi con la mia uccisione Spero vi sia piaciuto Lasciate Tanti sui pollicioni Per altri video Paravistar Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti